buongiorno e benvenuti al mio canale oggi parlerò ancora di clipchamp questa applicazione per browser un'applicazione online che può essere utilizzata appunto dal sito direttamente da clipchamp accedendo con un account microsoft oppure anche google o anche facebook oppure può essere utilizzata dai computer windows direttamente dall'applicazione windows store dall'applicazione omonima in windows store è quello che io farò adesso questo appunto è clipchamp che praticamente è la stessa interfaccia che noi vedremo se noi accedessimo qua dal browser lo faccio vedere ecco praticamente è la stessa vedete questo è il browser e questo è clipchamp invece vista da applicazione del microsoft store utilizziamo l'applicazione del microsoft store e vedremo come aggiungere delle transizioni ai video quindi si va su creare il tuo primo video se abbiamo cancellato tutti i progetti precedenti oppure si va su crea un video la stessa cosa andiamo su crea un video nel momento in cui creiamo un video il video sarà comunque il progetto del video sarà comunque salvato al posto del creato primo video si vedrà una miniatura qui si clicca su sfoglia e file per caricare file dal nostro computer poi si possa caricare come vedete anche da dropbox google drive one drive zoom box e google foto scegliamo di caricare dal computer scegliamo questi due video siamo su api i video verranno inseriti in questa nella sezione i tuoi contenuti multimediali e per creare una transizione si esposta il video nella timeline chiaramente i video la transizione dovrà essere creata tra i due video sostanzialmente sarà un passaggio un passaggio personalizzato da un video all'altro quindi si sfascina che secondo video come vedete non si può sovrapporre come succede sul short cut ma i video saranno tutte e due adiacenti ma indipendenti la sovrapposizione la farà direttamente clip chat e noi potremmo anche regolare la durata della sovrapposizione stessa per applicare una transizione si va sulla sinistra su appunto transizioni come vedete qua e qui ci sono tutte le transizioni passando il mouse sulla transizione se ne visualizzerà l'anteprima questa è la risolvenza nel nero questa è la risolvenza nel bianco una delle più classiche chiudi sfocatura incrociata adesso io non ve le faccio vedere tutte perché poi magari le vedremo direttamente se noi vogliamo applicare una transizione scegliamo quella più classica la risolvenza e crociata ci clicchiamo sopra con il sinistro del mouse quindi con il tag and drop la spostiamo nel punto tra le due clip come vedete nel momento in cui si lascia il mouse il sinistro del mouse verrà aggiunta la sezione ecco vedete questa è stata aggiunta la sezione qui in alto ci sono questi due pulsanti per personalizzare la sezione stessa innanzitutto andiamo sulla durata se noi clicchiamo sulla durata vediamo che la sezione di default è un secondo quindi è stata aggiunta la sezione di un secondo possiamo anche vedere il sfruttato vedete che il primo video va verso la trasparenza mentre il secondo passa dalla trasparenza alla visualizzazione totale e questa dura un secondo andando su durata però noi possiamo diminuire ovviamente la transizione quindi se si diminuisce la transizione diminuisce la larghezza grafica possiamo anche aumentarla possiamo portarla fino a 4 secondi come vedete nel momento in cui si aumenta vengono sovrapposti automaticamente le due clip prendiamo la transizione piuttosto lunga di tre secondi e mezzo più o meno come vedete allora la transizione molto lunga possiamo vedere l'anteprima sarà il primo video che va verso la trasparenza per il secondo progressivamente andrà alla visualizzazione scomplena possiamo direttamente cambiare la transizione da qui andando su transizione possiamo per esempio aggiungere dissolvenza nel nero ci si clicca sopra e si vede l'anteprima dalla clip al nero e poi successivamente l'altra clip dissolvenza nel bianco succederà che si verrà il bianco e poi l'altra clip poi chiudi e vediamo la risolvenza chiudi vediamole tutte dissolvenza sfocatura incrociata questa quindi sarà una sfocatura del primo video ci passerà secondo attraverso una sfocatura iniziale mosaico questo è un classico ecco il mosaico effetto inchiosto anche questa è una transizione interessante che sono tantissime scorrimento a destra qui il video scorre verso la destra il video entrante che scorre verso destra con una dissolvenza in trasparenza crescerà lo scorrimento in alto e quindi è simile a quella precedente soltanto che il video uscirà dal basso ecco di solverse crociata abbiamo visto quella che abbiamo visto inizialmente uscita a sinistra e quindi l'opposto di quello di prima quindi c'è vedete o esce a sinistra il primo video mentre entra il secondo scorrimento a sinistra uscita in basso uscita a destra sono tutte piuttosto interessanti uscita in alto scorrimento in basso l'uscita è più preventina mentre lo scorrimento è fatto con più delicatezza con più morbidezza glitch reveal vediamo cos'è ah piuttosto interessate anche questo rimpicciolisce ecco capovolgimento questo ce lo immaginiamo ecco c'è un capovolgimento e poi subenta la seconda clip ingrandisci è l'opposto di rimpicciolisci chiaramente c'è un ingrandimento del primo video e poi si passa al secondo basso basdo vertical barre verticali passare da un video all'altro glitch che questo è piuttosto carino originale tors con tre sezioni del video vado orizzontale c'è prima abbiamo visto l'origine di verticale adesso saranno gli orizzontali circolari circola sarà una transizione circolare ecco questa e infine liquid sticks e che adesso le abbiamo viste tutte quando abbiamo applicato le nostre transizioni a due video a due clip o a tre quattro quello che vogliamo non si può applicare una transizione a una singola clip se io lo faccio non succede niente la transizione deve essere applicata tra due clip quando abbiamo appunto applicato le tutte le transizioni possiamo passiamo ad esportare il video andiamo su esporta qui si può impostare l'aspetto razio in questo caso è un 16 9 perché i video sono 16 9 ma si poteva scegliere per esempio anche i 9 sedicesimi se il video era di tiktok per esempio oppure uno a uno si era di instagram eccetera eccetera lasciamo 16 9 andiamo su esporta ci vediamo la risoluzione migliore e quindi attendiamo la fine dell'esportazione del video con la transizione che abbiamo applicato e questo è tutto alla prossima volta